allora è il momento di Tony D'Amanfi il nostro campione in carica ciao ragazzi va molto bene, tu come stai? sto benissimo dai come sta Shazam il bambino? tutto bene, siamo tutti a casa, tutti a posto quali sono le sue attività principali? al momento mi aiuta nel gioco al momento mangia pisce caga diciamo per essere a livelli incredibili e a volte dorme invece direttamente dal Lazio esattamente da Ostia abbiamo lo sfidante Damiano buongiorno Damiano pronto? Damiano guarda che se chiami a voce non funziona, bisogna telefonare non arriva fin là tu Tony sei sempre lì vero? sì allora perdiamo un po' di tempo insieme che tempo fa a Menfi, provincia dell'Agrigento? no, no, oggi è una giornata normalissima bella giornata? no, bella giornata no né piove né c'è il sole ci stiamo preparando forse alla pioggia non lo so normalissima quanti gradi? quando non mi sa cosa dire ah, volevo fare i complimenti a Sciotti Sciotti? per che cosa? per quando fa le tracce mixate mette sempre il loop vacilando mi sono accorto di questa cosa quando fa le... si sta allargando grazie Tony cioè tu ti sei accorto perché non sei usi questi termini troppo tecnici magari gli ascoltatori meno attenti non capisco cioè in pratica tu hai notato che lui quando mette insieme le canzoni sotto cosa fa? mette sempre il loop e lo spazio mix di vacilando no, beh, gli alterno e metto dei loop così adesso mi sono accorto mentre parlavo è andata via la comunicazione è accorto l'essere batteria questo è Damiano ecco Damiano ecco Damiano Damiano, cosa è successo? eh, le batterie del... ah, quindi per una volta non è colpa nostra ma è colpa tua no, no, no allora ragazzi il gioco è semplice Tony si pronotterà col suo celeberrimo se 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 mentre Damiano col suo tatatata siamo rimasti ieri a pari merito oggi abbiamo ve lo posso preannunciare eh, alzato leggermente l'asticella ci sono tre canzoni un po' più difficili un po' meno popolari perché ormai qui il gioco si fa sempre più duro siete pronti per ascoltare la prima canzone e indovinare il titolo e il nome del gruppo? ok ok, andiamo con la prima canzone stiamo parlando di una canzone che appartiene allora Damiano da Ostia evidentemente ama il rap e soprattutto la old school quanti anni hai Damiano? eh, 38 38 quindi questa canzone potresti averla vissuta diciamo da adolescente esatto allora il brano dovrebbe essere di Tupac sì e la canzone Cingy esatto allora per avere il punto mi devi dire quale sample ha usato Tupac in questa canzone accidenti eh, io lo so e senza leggere senti questo allora col pianoforte di chi è? lo dico io Bruce Osby and the Range the way it is that's the way it is molto bene andiamo avanti la seconda canzone è questa si prenota Tony da Manfi perché è un po' più la sua materia lui sull'hip hop ha un po' di lacune chi sono questi? è una canzone che poi è stata usata molto dai DJ ah ma lo so eh lo so lui la sa attenzione sta scadendo il tempo per Tony tempo scaduto Damiano sono The Empire of the Sun con Walking on a Dream colpo di schiena cosa significa tutto questo? un attimo che parlo con il mio notaglio signor Sapientini Sapientini cosa significa? che Tony da Manfi non è più campione dopo due mesi e una settimana Tony ci mancherai tantissimo anche voi ragazzi io ti invito personalmente a venirci a trovare a Milano e a passare un pomeriggio con noi così ci possiamo abbracciare fisicamente oh finalmente verrai? con molto piacere ragazzi ti aspetto Tony grazie per la tua diciamo come dire chi è che piange? mio figlio se l'è preso anche lui a male sei preso sei stato bravissimo molto molto competente bravo grande appassionato di musica bravo Tony ti aspettiamo a Milano adesso ti organizzi con la Ginger mentre te e Damiano ti aspettiamo domani pomeriggio ok è stato un piacere giocare con aver conosciuto insomma battere Tony bravissimo grazie a domani ciao a domani DJ Time